Le famiglie vedranno le bollette aumentare dell'ordine di 200-300 euro su base annuale per quelle del gas e almeno 150 per quelle dell'elettricità. Poi tra l'altro c'è un problema anche sui costi di carburanti che seppur lievemente rispetto al gas stanno aumentando. Invece per le prese la situazione è ancora più difficile perché loro al netto di tasse vedono dei rimbalzi ancora più pronunciati intorno al 50% e loro stanno addirittura pensando a sospendere la produzione. Molte industrie perché non ce la fanno a pagare questi livelli del prezzo del gas e allora aspettano che passi l'inverno perché teoricamente finito l'inverno i prezzi dovrebbero tornare a essere più bassi. A quel punto lì riprenderebbero le attività produttive. Tuttavia bisogna vedere se questo è solo momentaneo perché altrimenti queste sospensioni, queste manutenzioni, queste chiusure temporanee potrebbero diventare anche più durature e portare la chiusura dei stabilimenti e pertanto a disoccupazione che sarebbe una tragedia nazionale.